L'Italia 5 Stelle E' a lui che dedichiamo quindi questa terza edizione di Italia 5 Stelle in attesa della prossima e vorremmo con un gesto simbolico a quest'uomo che ci ha regalato così tanti palloncini da portare ognuno di noi e condividere tra di noi Vorremmo che arrivassero a lui ovunque adesso sia i nostri palloncini che sono i doni che ci ha lasciato Grazie 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 Grazie